GRANDE ROSSO GRANDE ROSSO DA OCCIO C'AI TRAM OCCIO OCCIO carb... Siamo andati in quest'uomo thing him mie Alt phenomena Verrei c'è, rodo, e le Noi tu parlavi anche una bucchina di fama, ma c'è mangiare nozzog da bole. Eh ma ora guardate all'altro, c'è prima mangiare nozzog, mangiare nozzog. Ma ora però? Ma ora è un po'. No, ora, ora. Ti fai rientrare un attimo. A voi non è, a voi non è, no, a voi non è.